Oggi aggiungiamo un piccolo elemento a quello che abbiamo imparato fino ad ora. Facciamo un veloce ripassino di quello che abbiamo imparato fino adesso. Dunque abbiamo imparato che un periodo è formato da tante proposizioni, che la proposizione principale è la più importante, si chiama principale per questo, si chiama principale perché può stare anche da sola, perché non ha bisogno di tutte queste altre informazioni. Cosa ne faccio di queste informazioni? Beh, nel mio periodo queste informazioni abbiamo visto che devono essere organizzate, devono avere una posizione ben precisa, che deve essere una posizione logica. Quindi ognuno ha un suo ruolo e una sua posizione. Possiamo paragonare l'ordine con cui le proposizioni all'interno del periodo vengono ordinate un po' come una scala, non è un po' come scendere una scala. Quindi io posso avere delle subordinate che distinguerò in base ai gradi e che cosa significherà? Significherà che la subordinata di primo grado dipende direttamente dalla principale perché è di primo grado. È un po' come scendere il primo gradino. La subordinata di secondo grado significa che dipende da quella di primo grado e così via, la subordinata di terzo, la subordinata di quarto. Abbiamo visto che la subordinazione non è però l'unico rapporto che ci può essere, possono esserci anche dei rapporti di coordinazione. Quindi io posso avere un'altra proposizione principale, quindi un'altra proposizione che ha le stesse caratteristiche della principale, e quindi la chiamerò coordinata perché significa che è sullo stesso livello. Questa cosa può succedere anche però con le altre proposizioni. Io potrei avere una coordinata alla subordinata di secondo grado, potrei averne anche più di una volendo. Vuol dire che sono proposizioni sempre subordinate, cioè che hanno bisogno comunque di una principale che le regga, infatti la principale si chiama anche reggente, e però hanno la stessa caratteristica di altre subordinate dello stesso grado. Quindi ricordati sempre la scaletta e l'ordine determinato o da rapporti di subordinazione o da rapporti di coordinazione. Proviamo a mettere in ordine, in base al ripasso che abbiamo fatto fino adesso, questo periodo. Prima cosa, leggerlo fino alla fine. Pino è tornato a casa ed è andato a letto per riprendersi dalla fatica che aveva fatto nel pomeriggio, aiutando i nonni a svuotare la cantina e a preparare gli scatoloni. Seconda cosa, dobbiamo individuare i predicati. E' tornato, è andato, riprendersi, aveva fatto, aiutando, svuotare, preparare. Adesso individuiamo le diverse proposizioni. Ce ne sono tante. L'unica che può stare da sola, che non ha bisogno degli altri, è questa. Pino è tornato a casa. E io potrei tranquillamente mettere un punto e finire qui. Quindi ho individuato che questa è la mia principale. Però, se io leggo attentamente, mi accorgo che anche la proposizione che c'è subito dopo, ed è andato a letto, ha le stesse caratteristiche della principale. E' andato a letto. Punto. Anche questa è una proposizione che può stare da sola. Certo, abbiamo una congiunzione che la unisce a questa. Ma la unisce mantenendola sullo stesso piano, sullo stesso livello. Quindi questa sarà una coordinata alla principale. Per riprendersi dalla fatica. C'è una preposizione. Questa è una subordinata. Che aveva fatto nel pomeriggio. Qui addirittura abbiamo un pronome relativo, quindi siamo sicurissimi che è una subordinata. Subordinata, aiutando i nonni a svuotare la cantina e a preparare gli scatoloni. Tutte queste sono subordinate. Vediamo di ordinarle. Quindi questa sarà una subordinata. Questa è un'altra subordinata. 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 Adesso proviamo a metterle in ordine, come abbiamo detto prima, come se dovessimo scendere una scaletta. La principale la mettiamo in cima alla scala. Pino è tornato a casa. Ma abbiamo detto che questa era una coordinata. Quindi la metteremo sullo stesso piano della scala. Principale. Coordinata alla principale. Per riprendersi dalla fatica. Pino è tornato a casa ed è andato a letto per riprendersi dalla fatica. Quindi, subito sotto, subordinata di primo grado. Fatica che aveva fatto nel pomeriggio. Questo pronome relativo si riferisce a fatica. Dalla fatica la quale aveva fatto nel pomeriggio. Quindi siamo sicuri che la reggente di questa subordinata è questa qui. Ma siccome questa è una subordinata di primo grado, allora questa sarà una subordinata di secondo grado. Fatica che aveva fatto nel pomeriggio aiutando i nonni. E abbiamo un terzo grado. Aiutando i nonni a fare che? A svuotare la cantina. Quarto grado. E a preparare gli scatoloni. Ecco qui un'altra coordinata. Perché? Perché io posso dire aiutando i nonni a svuotare la cantina. Aiutando i nonni a preparare gli scatoloni. Queste due subordinate hanno esattamente le stesse caratteristiche. E sono rette entrambe da questa subordinata. Quindi, ricapitolando, possiamo dire che questa è la principale. Questa è la coordinata alla principale. E poi qui abbiamo la subordinata di primo grado. La subordinata di secondo. Subordinata di terzo. Subordinata di quarto. E questa è la coordinata alla subordinata di quarto grado. Ecco qua. Vedi che effettivamente è proprio come fosse una scala. Proprio come scendere i gradini di una scaletta. Adesso aggiungiamo un elemento in più. Perché oltre a specificare il grado delle subordinate, tu dovrai anche saper dire se queste subordinate sono esplicite o implicite. Vediamo come si fa a riconoscerle. Intanto, cosa significa esplicito? Cosa significa implicito? Un'informazione esplicita è un'informazione chiara, visibile, che si capisce subito. Quando uno dice una cosa chiaramente e tu la capisci immediatamente, vuol dire che ti ha dato un'informazione esplicita. Un'informazione implicita, invece, è qualcosa che va un pochino ricercata. Non è subito chiaro il suo significato. Bisogna rifletterci un po'. Quindi la differenza tra una subordinata esplicita e una implicita è proprio questa. e ancora una volta, come sempre, dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul predicato. Prendiamo in considerazione la prima di queste due frasi. Arriverò in ritardo perché ho perso l'autobus. Arriverò è il primo predicato. Ho perso è il secondo predicato. Qui ho un perché, quindi sono sicura di dover dividere qua. Arriverò in ritardo. Può stare da sola? Sì, infatti è la principale. Arriverò in ritardo. Perché ho perso l'autobus? Subordinata di primo grado. E fino a qua ci siamo. Mi sta dando un'informazione chiara? Certo, perché ho perso l'autobus. Io qua non devo ragionare, non devo andare a cercare dei significati nascosti. L'informazione che mi viene data è esplicita. E scriverò è. Guardiamo quella sotto. I libri buttati in disordine in cartella si rovinano. Si rovinano è un predicato. Attenzione, questo è un altro predicato. Ti ricordi, abbiamo detto in una lezione precedente, che anche i participi passati sono dei predicati e vanno trattati come tali. E' come se io qui avessi scritto che vengono buttati, ad esempio, che sono buttati in disordine in cartella. Sappiamo anche, perché l'abbiamo già visto, che le proposizioni non sempre sono così semplicemente attaccate una dopo l'altra, ma possono anche essere inserite una nell'altra. Infatti, se io devo identificare la principale, la principale sarà i libri si rovinano. Questa è la proposizione principale. Questa qui sarà la subordinata di primo grado. Ok? Riflettiamo adesso sul significato di questa subordinata. È chiaro il suo significato? Beh, insomma, mica tanto. Buttati in disordine. Che informazione mi sta dando? Mi sta spiegando che se io i libri li butto così, si rovinano. Noi abbiamo detto che per individuare il predicato dovevo immaginare che ci fosse un pronome. I libri che vengono buttati in cartella. Beh, detto così è molto più chiaro. Però ho dovuto farci un ragionamento. Infatti, questa informazione è un'informazione implicita. Le subordinate esplicite sono quelle che hanno i predicati nei modi finiti. Quindi all'indicativo, al congiuntivo, al condizionale. Sono cioè quei modi i cui tempi mi danno delle informazioni certe. Intanto abbiamo le persone, tutte e sei le persone. Quindi è molto chiaro quello che mi viene detto. Al contrario, dei modi indefiniti. Cioè il gerundio, l'infinito, il participio. Che sono dei modi che ad esempio non hanno le persone. Quindi sono molto più generici, sono molto più vaghi. Devo un po' ragionarci per capire di che cosa stiamo parlando. Allora, tutte le volte che io ho il verbo in un modo finito, avrò una subordinata esplicita. Tutte le volte che ho un verbo in un modo indefinito, avrò una subordinata implicita. Questo è uno schermino che riassume molto semplicemente quello che abbiamo imparato oggi. Certo, qui c'è poco da capire. Qui c'è da conoscere molto bene i tempi e i modi dei verbi. Se tu conosci molto bene i tempi e i modi, non sbaglierai mai. Adesso ti lascio con una domanda. Secondo te, una proposizione principale potrebbe essere implicita? Prova a rifletterci. No che non può essere implicita. Torniamo indietro a vedere il secondo esempio. Se io prendessi solo questa subordinata, è una proposizione che può stare da sola? No, perché se io la rendo esplicita qui, abbiamo detto, c'è scritto che sono buttati e se inizia col che, non può essere assolutamente una principale. Quindi, la risposta alla domanda che ti ho fatto prima è no. Una proposizione principale non può mai essere implicita. Questa è un'altra informazione che ti aiuta a non sbagliare. Cosa abbiamo imparato in questa lezione? Abbiamo imparato a riconoscere le subordinate implicite ed esplicite. Ti auguro, come al solito, buon lavoro e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie.